magi ciao a tutti e basta rompere le scatole al magicolo perché mi sto rompendo il scasso non ce la faccio più avete rotto le magi bellissime il magicolo non sai più come prima e magicolo non leggi commenti e magicolo di qui e magicolo di là basta basta andate a vedere i più grandi youtuber della storia che faranno la storia del mondo pagati un sacco di soldi per non fare niente e lo dimostra il fatto che ci sono video con milioni di visualizzazioni di gente che gioca col pombo di gente che mette il suo figlio davanti alla telecamera questo youtube fare soldi non facendo quasi niente solamente con una videocamera in full hd e un audio perfetto la qualità dell'immagine ha prevalso sul contenuto non dico che prima magari il contenuto era migliore ma certamente se non c'era un'immagine decente dovevi per forza puntare sul contenuto e quindi cosa vuol dire magicolo te ne stai dando su youtube no 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 non ti prego no l'unica fonte di speranza di verità invece no beh ce ne sono altri di fonte di verità peccato che sono verità stupide eccolo oppure no non lo so a voi la scelta io questo video era solamente per fare un video non c'è nessun significato e io non tornerò comunque un 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 un